Il vertice di questa mattina ha dato la svolta praticamente decisiva. Rocco Costantino sarà un nuovo giocatore del Teramo. L'attaccante pinetese può considerarsi infatti ormai un ex su Tirol. Contratto lungo fino al giugno 2021 per ricostruire attorno a lui e ai suoi gol un diavolo che possa in futuro lottare per ulteriori traguardi. L'incontro di stamattina con Costantino e il suo agente Samuele Sopranzi nella sede biancorossa ha sciolto le ultime riserve rispetto ad un accordo che giorno dopo giorno si è fatto sempre più concreto anche se il ragazzo solamente nelle prossime ore darà l'ok definitivo ma l'incontro è andato bene e il cerchio si sta chiudendo rapidamente. Adesso l'altro obiettivo per il reparto avanzato è Andrea Bianchimano del Perugia. L'attaccante arriverebbe in prestito secco dagli Umbri visto che nel Serie B è chiuso e non trova quello spazio di cui avrebbe bisogno. Il Grifo lo lascerebbe partire senza particolari problemi e Maurizzi lo accoglierebbe molto volentieri. Peraltro prova il Perugia e la società più interessata a Michal Lewandowski. Nell'operazione il Teramo potrebbe avere la spalla di costa tanto reclamata da Maurizzi in più potrebbe monetizzare con l'estremo difensore polacco che tuttavia resterebbe ancora sei mesi alla corte del diavolo prima di andare in Umbria a giugno. Per quanto riguarda le operazioni in uscita il Potenza e la Cavese sono interessate a Bacio Terracino che lascerà i colori biancorossi non per la Serie B come sperava probabilmente l'esterno campano ma per la Lega Pro anche se cambiando girone. Il Teramo però non sembra interessato allo scambio con Salvemini in caso di affare con i perché ritiene che con Costantino e Bianchimano e con Zecca, K e Barbuti il reparto sia già davvero al completo. Lunedì intanto prima dell'allenamento visite mediche per Giorgi che qualora andassero bene firmerà l'accordo con il club biancorosso e si metterà a disposizione di Maurizzi. Manca il ritmo partita, l'ultima gara disputata del 27 dicembre 2017 seppur in Serie B. L'innesto sulla carta di quelli importanti ma bisognerà capire quanto ci metterà ad essere al top della condizione.